Entra in vigore oggi una nuova ordinanza in via Capuani, in pieno centro a Teramo. È un'ordinanza che già sta facendo discutere, perché proprio a partire da oggi ci sarà un presidio costante da parte di una pattuglia della Polizia Municipale. Una pattuglia destinata a un controllo serrato degli automobilisti che dal varco di via Oberdan vorranno entrare appunto su via Capuani. Ed inizia già una polemica, una polemica piuttosto dura anche per i cartelli che sono stati apposti lungo la via, cartelli sistemati alla buona, probabilmente perché il comune di Teramo non aveva i fondi necessari per l'acquisto degli stessi. Sotto accusa anche l'ordinanza scritta dall'ufficio traffico e firmata dal sindaco, visto che gran parte non è comprensibile neppure agli addetti preposti al controllo delle auto nella ZTL di via Capuani, e cioè alla Polizia Municipale. La mattina dalle 9 alle 13 ci sarà il parcheggio a rotazione con una tempistica di 30 minuti, poi dall'una torna ZTL, così come lo è poi lo sarà per tutta la notte, insomma per quello che era l'ordinanza precedente, e poi quando ci saranno degli eventi e delle attività pedonalizzeremo via Capuani. Per questo motivo c'è un pilomat che stamattina stanno mettendo in funzione, quindi mi sembra che l'attività è quella di volere in qualche modo dare una mano al commercio senza per questo snaturare quello che è un po' la direttiva che l'amministrazione vuole portare avanti. Se c'è qualche problema di lingua italiana relativamente all'ordinanza la possiamo rivedere, insomma le ordinanze vengono scritte dagli uffici, preparate dagli uffici e firmate dal sottoscritto. Se c'è qualcosa che non è chiaro sicuramente va chiarito. Non sono enormi i cartelli messi alla buona sulla via e creano confusione tra spazi riservati a disabili a quelli per gli autorizzati. Mancano i cartelli e gli incroci che portano alle stradine vicine che nel gergo si chiama cartello composito. Non tanto per i vigili quanto per i cittadini, che poi sono i fruitori del parcheggio. Sono certo che quello che è stato rappresentato dai vigili viene fatto per favorire l'utente ad una maggiore chiarezza. Però mi sembra che è chiaro quello che si deve fare. Dalle 9 alle 13 parcheggio e rotazione nei venti stali di via Capuani. Credo che più di questo sia la sostanza. Prende le distanze dalle polemiche il sindaco che l'ordinanza l'ha firmata. Mattina c'è stato un sopralluogo con l'ingegner Manetta, il vicecomandante Finocchi e alcuni vigili. Questi sono aspetti tecnici di quali non intendo interessarmi, nel senso che c'è chi lo deve fare. Sul resto mi sembra che l'ordinanza va nel senso che ho detto. Credo che sia una fase di sperimentazione che ci viene richiesta dalle attività commerciali, ma che comunque credo possa essere una buona sperimentazione. Grazie. 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 Grazie.